partiti veloce a centropista Capitan Schick si porta in vantaggio con decisione su Gavid poi lungo la corda Pramani Potala ridosso a centropista con vicino Apple Cream e la vacanza a largo di tutti anche Summer in linea con i primi Capitan Schick e Summer sono con Gavid all'interno sono in prima linea con con a centropista anche la vacanza poi Apple Cream Owen Force seguono a largo another full power Summer a centropista Capitan Schick all'interno poi la vacanza ancora all'esterno another full power siamo nel tratto finale con Summer che sta mantenendola meglio attaccata all'esterno da another full power sul palo Summer another full power vicinissimi al terzo posto Capitan Schick sulla vacanza poi probabilmente quinto Gavid andiamo comunque a rivedere il finale con Summer a centropista all'esterno di tutti con Samuel Diana che dovrebbe aver mantenuto la meglio ma vediamo nei confronti di another full power che si è avvicinato ma probabilmente non lo abbatte al terzo posto l'uno di Summer al quarto il sei di la vacanza al quinto l'otto di Grand Bounty quindi quattro due uno di Capitan Schick al quarto sicuramente il sei di la vacanza e quinto l'otto di Grand Bounty quindi quattro due uno sei otto questi i probabili cinque numeri del Tris Quartè Quintè di Napoli è tutto per oggi a risentirci sabato prossimo Grazie a tutti ... ... ... Grazie a tutti.